Chi governa, chi vuole e chi gliela più lui? Ah sì, chi in Italia ormai le proprie inutili vengono a votare, al conto più niente, al vincu, al basso un altro. Però anche avranno premiato alle Olimpiadi a Sochi, non sarà l'unico paese del mondo che si è presentato alla cerimonia di inaugurazione col capo del governo e che si è impagliato con un altro, e gira già al detto che il nostro caro Letta è sparito come una setta, perché Arenzi ha dato la tetta. In Italia è capito proprio sì, al passato qui chi vota è miga, invece chi ha ormi e chi ha un votare è bene impiantare. Ho già pensato che se ti senti nel sasco è piuttosto per malus e puoi sentire se la mente di cosa, a mio par, che non mi può fare niente male. Beh, forse è un po' di immobilismo e poca voglia di fare. Eh, tazza sono. Però, quando voglio pagare la tassa, altro che il mobilismo, e arrivare in 5 minuti, ti pensano che mi arriva a pagare la tassa nuova sui servizi, al di prima per al di dopo? Sì, ma l'è stato un disguido generale a livello nazionale. Va bene, ok, però mi paghi per avere i servizi, e mi pare che sia mio amico tanto. Ti pensano, l'altro giorno, al mio figlio, mi arriva sull'arco e mi porta sul pesce. Ne ho fatto una gran mangiata, tanto che ero quasi greco. Per dire la corte mi sono disminente di mettere fuori il ruolo che è passato la domanda. Risultato, al di dopo, che è l'inagrante, puzza di pesce, baita, e 6 milioni di fattura RUT.